Musica 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 Che va ad aprire? Vai tu, non vedi che va adattare? Sì, vai tu piccolino Ok, ok, vado io Oh oh oh, buon Natale Oh oh oh, che bella babba Natale Oh oh oh, che bella babba Natale Jim, ho questo pacco per te Sì, anche noi vogliamo un pacco Grande, cosa sarà mai? E fate il bravo bambino quest'anno? Ma che bravo bambino è stato un cattivone Sì, è stato il nostro cattivone Sì, è stato il nostro cattivone Faccio un bambino con le sue facce? Giù! Buon per te, goditi il tuo regalo Io devo scappare, ho le rende parcheggiate in doppia fila Mamma papà Natale Cos'è successo a Natale? Tra l'altro è un bambino, è un bambino con la buona Mi va bene anche così Bene ragazzi, fine dello scherzo Di carta me ne basta e avanza una sola Dai amore, vieni che presentiamo il nostro nuovo giocattolo Io non ho più Azzardati un'altra volta a baciare Babbo Natale Dopo questo presentiamo il giocattolo Allora, cosa abbiamo qua? Cosa sarà? Non lo sappiamo Chi lo sa? Ma chi l'ha impacchettato questo regalo? Quella zoccola di Babbo Natale Spacchiamolo? Spacchelo Spacchialo, 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 spacchialo Spacchia bottiglia Che cosa abbiamo qua? Spacchialo, 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 spacchialo aprilò 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 quando andiamo a provarlo? quando andiamo a provarlo? quando andiamo a provarlo? aprilò 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 wow mangiamo un piatto wow è fantastico è fantastico è verde e gira che figo il nostro drone dromida ci sono le eliche di ricambio ci serviranno sicuramente il nostro capriciolino le batterie il telecomandino il mio nuovo giocattolino e va bene pensate che quel che ho letto perché io conosco questo drone l'ho ordinato io e l'ho studiato è molto resistente per la sua fascia di prezzo lo usano per i combattimenti combattimenti di droni combattimenti tra droni e poi fanno delle specie di gare e poi vi faremo vedere nel prossimo video il prossimo video ci sarà il primo volo di vista sperando che non sia il suo primo e ultimo volo no dai bene amici se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale condividete continuate a seguirci e cliccate mi piace a babba natale yeee che festa jingle bell jingle bell jingle bell la sperla me la dai scusa davanti a me ti bacio un'altra secondo te va bene va bene comunque ci vediamo al prossimo video che sarà la prova del drone vista che vola vista che vista ciao 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 ah questo era l'ultimo pacco ma quindi dopo possiamo fare così Uhuuuuhhhh volare, volare, volare! Vai giusto le volare, 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 volare! Cacchio... mi sento un astronauta! Oh oh! Tra quando andiamo? Tra quanto andiamo a provarlo? Dai andiamo a provarlo! Segniamo... Ti preferivo babba natale! Oh! Ma hai rotto le palle con questa babba natale! Capito? Grazie a tutti